Dietro che cosa si nasconde Dio? Essere e divenire, cerchio Firenze 77, attraverso Roberto Setti, scuola del cerchio Firenze 77, a cura di VB, Dali. Vi ho udito cari porvi questo interrogativo del resto voluto dal fratello Kempis, circa il concetto diverso che voi dovete avere di quella che comunemente viene chiamata divinità nella vita dell'uomo e più ancora nel mondo che lo circonda. Da quello che noi vi diciamo, intendere dietro che cosa si nasconde Dio dove si può trovare nel mondo sensibile che circonda l'uomo. È utile ripetere che dall'opera stessa di Dio l'uomo, per quanto limitato sia nella sua facoltà di comprendere, già da lì può avere un inizio di comprensione dell'immensità della divinità. Allo stesso modo dei mistici, dall'opera intuire il fattore, il creatore. È utile ripetere che tutto quanto vi circonda, la natura stessa, può indirizzarci alla comprensione dell'assoluto, a credere alla sua esistenza. Ma, direte voi, con la spiegazione che ci è stata data, adesso non possiamo più credere nell'intervento diretto dell'Altissimo. E perché mai, figli? Perché dite questo? Tutto è suo intervento diretto, tutto. Il mondo stesso dei fotogrammi è un suo diretto intervento, perché egli ci sente e sente tutto quanto è attorno a noi, sempre e da sempre e per sempre. E noi quindi lo abbiamo in noi, accanto a noi, fuori di noi sempre, in un eterno presente. Dunque, dove voi volete cercarlo e trovarlo, se già è svelato in voi e attorno a voi? Dove credete di trovarlo mascherato, che si sveli e dia un segno della sua esistenza, se già egli è svelato, esistente, manifestato in sempiterna.